Confindustria Pescara in collaborazione con Confindustria Chieti hanno organizzato per questa mattina presso la sede di Pescara il workshop rischi di impresa in tempi di crisi come uscirne vincenti, nuove strategie per sanare il presente e progettare un nuovo futuro. Un workshop non convenzionale, pragmatico e rigoroso per affrontare le difficoltà sistemiche che la perdurante crisi strutturale presenta. Numerose le testimonianze, esperienze reali, concrete. Il workshop patrocinato da Confidi Mutual Credito ha visto la partecipazione di Alessandro Laddari Presidente di Giovani Imprenditori di Confindustria Pescara, Giorgio Di Rocco, Presidente di Confidi Mutual Credito, Michele Borgia, Presidente della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo. Il coordinamento dell'incontro è stato di Giovanni Maria Bossic, consulente di direzione. In queste situazioni che cosa succede? Succede che un pochettino ci si nasconde, ci si chiude in se stessi, si tende un pochettino a voler quasi dimenticare i problemi e a lasciarsi andare. Questo è assolutamente da evitare, occorre invece, ripeto, fare un esame di coscienza, ma di coscienza soprattutto da un punto di vista, non solo dei conti, soprattutto dal punto di vista del posizionamento sul mercato e delle opportunità che l'azienda ha sul mercato. Spesse volte, ripensando il proprio posizionamento sul mercato in termini di innovazione e in termini di internazionalizzazione, che sono un pochettino i due driver principali che oggi consentono a molte aziende di restare competitive, ripeto, ripensare a questi due elementi, a queste due direttrici di competitività è assolutamente indispensabile e come ultimo aspetto, poi dopo verrà discusso nel convegno con maggiore dettaglio, è quando opportuno riunirsi in rete.